Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò, di gemme d'oro ti coprirò, se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità, un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità, una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te, se potessi avere... Cento lire, grazie, ingresso in fondo a destra, attenzione alla maniglia del bagno che è dispettosa. Due. Una bambina, centocinquanta lire, grazie, ingresso in fondo a destra, se dovete andare in bagno, attenzione che la maniglia è dispettosa. Un biglietto, grazie. Cento lire, grazie, ingresso in fondo a destra, questi sono cinquanta lire però, mancano cinquanta lire. Mi dispiace ma era fuori posto. Vabbè. Non ci sono abbastanza soldi, per entrare a guardare il film bisogna pagare il biglietto. Sono soldi quelli? Non sono abbastanza, un biglietto, cento lire, gliel'hanno già detto. Per favore, solo questi, non ho di più. Guardi, guardi, se ne vada per... Ma guardi che è l'ultimo della mattina, non ci vede nessuno. Buonasera, signor Borgo. Ma io non ci vede, ma... Madame, lasci stare, ci mancherebbe. Vada dentro, voletevi lo spettacolo, fate una buona serata e mi raccomando, mi saluti suo padre e gli dica che quest'anno siamo ancora con lui. Ho messo il socero. A casa io dico io, mamma. A casa fammi i conti. E anche stasera, tutto esaurito. E queste 50 lire? Posto unico, 100 lire per lei, signore. Un grande affare, prima fila, fondo a destra. Vado a prenderlo. Allora, vado, vado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.